Questa è l'equazione di una retta non verticale su bianca. Adesso ci lavoriamo per una mezz'oretta, poi continuiamo l'equazione in generale. Qual è un esercizio che io posso fare? Invece di fare tanti esercizi, facciamone pochi, ma ogni esercizio lo faccio in due o tre modi diversi. Allora noi sappiamo che per due punti distinti, passa una sola retta. Andiamo a trovare la retta R, che passa... Allora, prima, non so, tre, uno, cinque, quattro. Allora, prima possibilità per risolvere questo esercizio. Io posso, diciamo, mettere queste a posto di x e y e regalare un'equazione con m, cioè tre uguale m per uno più m, quindi m più m. E poi, cinque uguale, quattro, aspetta, il contrario, uno uguale tre m più m. E poi, quattro uguale, cinque m, due m. A questo punto, posso dire, faccio la differenza e trovo che tre è uguale a due m, quindi m è uguale a tre mezzi. Allora, se m è uguale a tre mezzi, sostituisco in una di queste due equazioni, che controllo posso verificare che la sostituzione mi dia lo stesso risultato. Vabbè, per il controllo lo faccio alla fine. Quindi sostituisco, per esempio, una prima equazione e trovo uno uguale, tre per tre mezzi fa nove mezzi, più n, quindi n uguale a meno sette mezzi. Quindi, se ho fatto bene i conti, y deve fare tre x meno sette, diviso due. Allora, proviamo. Questa è un'equazione di una retta, perché m è x più n. Se la retta passa per questi due punti, noi sappiamo che per due punti passa uno e una sola retta, quindi è finito. Controllo. Allora, qua la x fa tre, tre per tre fa nove, nove meno sette fa due, due diviso due fa uno, eccetera. Qua la x fa cinque, tre per cinque fa quindici, quindici meno sette fa otto, otto diviso due fa quattro, eccetera. Allora, questo è un modo, però presuppone un minimo di familiarità con i sistemi. Io quando avrei stessa, fatti si stai in un cielo quel giorno, vabbè, perché andate si è sfidati dopo. Sistemi lineari. Però, ci sono altri modi. Quali sono questi altri modi? Cioè, un modo grafico, allora qua c'è uno, due, tre. Uno, due, tre, scissa uno, quattro e cinque, scissa però due, tre, quattro. Quindi, se io vado a unire questi due punti e a proseguire, naturalmente, se avessi un foglio quadrettato, sarebbe meglio, questo è il punto tre, uno, e questo è il punto cinque, quattro. Allora, m, che si chiama coefficiente angolare, da che cosa è dato? E se vi ricordate, m era l'altezza di quel triangolo che aveva base 1. Se io faccio qui, un triangolo lungo 1, questo è m. Ma questo quant'è? Da qua a qua quant'è? È 2. E allora questo sarà? 2m. Ma 2m chi è? È la differenza tra queste due, guardi? Cioè, se in 2, se io mi sposto verso destra di 2, so che questa retta sale di 3. Quindi, m quanto sarà? Se 2m vale 3, m vale 3 mezzi. Guardate, non ho fatto altro che applicare la formula che tutti conoscete, che è m uguale a y2-y1 fratto x2-1. Questa la sapete tutti. Ma se la applicate così, non la state applicando avendola compresa, la state applicando a memoria. Poi dopo di che, aspetta, chi andava a numeratore, chi andava a numeratore, chi andava a denominatori, chi andava a primi, chi andava a dopo. Fate casino? Invece, io qui sto dicendo, quando mi sposto verso destra di 1, di quanto sale m? Se in 2 sale di 3, in 1 sale di 3 mezzi. sembra la stessa cosa, ma è leggermente diverso. Qua l'ho compreso. Il rapporto. La pendenza, nel senso, il rapporto tra delta y e delta y. Su 1, quanto sale o quanto scende? Se scendo è meno. bisogna saper fare delle ragionamenti semplici e corretti. c'è un famoso esempio in proposto. Mi ricordo su, una ventina d'anni fa, giocavo a bridge, stavo studiando su un libro di bridge, a un certo punto c'era la domanda, perché la gallina attraversa la strada? una domanda così semplice, la risposta non potrà essere complicata. Quale può essere? vediamo se qualcuno ce l'ha avuto. La divaleta la fraccia. Esattamente. Questa è la risposta. E' inutile che ti fai i film su quale può essere l'intenzione recondita della gallina. Se la gallina attraversa la strada, vuol dire che puoi andare di là. Pum. Non puoi sapere né di più né di meno di questo. Questo lo sai. Se tu paghi così, magari non sfrutti l'informazione. Se invece ci costruisci sopra, ci richiami sopra, magari costruisci un'informazione non corretta. La gallina sta andando di là. E allora vuol dire che deve andare da l'altra parte. Perché? Non lo sappiamo. Il vero perché. Per andare da l'altra parte. Esattamente. Ok. Quindi questa è come si ricava M. Poi una volta ricavato M è facile, perché io quando ho basta sostituire una di queste e ricavare M. Poi controllare. E' l'ultima parte, ma non quella che abbiamo fatto qua. Potevamo farlo qua. Per esempio, avevamo 4 uguale 5 per 3 mezzi più N, e N veniva sempre meno 7 mezzi. 15 mezzi. Sono 8 mezzi. 4 sono 8 mezzi. Qui sono 15 mezzi. 4 o meno 15 mezzi viene meno 7 mezzi. N viene meno 7 mezzi. Ok. Ok. Allora, andiamo a vedere. Facciamo una nata. Quindi qua abbiamo due modi diversi per fare questo esercizio più il fatto che sappiamo controllare. E' facile controllare. ma controllare non significa andare a vedere sul libro se sta fatto bene. E' una cosa diversa. Controllare, io lo so perché per generazioni di studenti viene 7. Che dice il libro? 7. Vabbè sta a posto. No, non è qui. Perché poi quando fai l'esame il risultato sul libro non ce l'hai che fai? Controllare deve essere qualcosa che puoi fare anche quando fai l'esame. E' giusto o no? Se no che controlla? C'avevo il libro. C'avevo il libro. 1,2,2,5 Facciamo un altro. 1,2,2,5 questo è più facile. Ah, un terzo modo di fare questo esercizio era prendere i punti di segnali sul tirare la vetta andare a vedere dove cadeva l'intercetta e quello era meno 7,5 in questo caso e poi tirarsi diciamo andare a segnare un triangolo qua diciamo di base 1 e vedere quanto era fatto. Sai che era? Questo è un metodo grafico non lo suggerisco questo metodo perché dipende da quando siete dati a fare la figura insieme. Però se la figura è fatta bene devo rispondere. in particolare può servire a fare un controllo anche visivo per esempio io prima stavo scambiando la y con la x e quando vado invece a disegnare la cosa non mi trovo no? Se io scambio la y con la x eppure quando vado a sostituire scambio la y con la x mi trovo. Poi quando magari vado a disegnare la figura la x e la y non le scambio le metto correttamente vado a disegnare la figura e non mi trovo. Quindi un controllo anche di quel tipo può essere utile certamente. Allora in questo caso vedete da 1 a 2 qua mi sono spostato verso destra di 1 e l'ordinata sale di 3. Quindi y senza fare tanti conti è 3x ma qua se faccio 3x mi viene 3 per ottenere 2 quindi devo togliere 1 quindi 3x meno 1 proviamo di qua e vediamo se funziona. 3x meno 1 qua funziona perché viene 1 per 3 3 meno 2 fa 1 2 per 3 fa 6 meno 5 fa 1 quindi l'equazione della letta passando per questi due punti è questa. Questa era più facile perché i coefficienti venivano interi. È chiaro? Ok? andiamo adesso a vedere per esempio scrivere la parallela a R passante per meno 1 5 che significa R è questa retta qua che significa che due rette sono parallele? che significa due rette sono parallele? hanno la stessa coefficientia ma questa non deve essere una cosa che va a memoria deve essere una cosa che si capisce perché hanno il stesso coefficientio angolare? perché se sono parallele quando io faccio la differenza in verticale questa deve rimanere sempre la stessa se la differenza aumentasse o diminuisse e mano a mano che per proporzionalità mano a mano che io vado avanti diciamo da una delle due parti o verso sinistra o verso destra le rette si dovrebbero incontrare perché se da una parte aumenta l'altra diminuisce 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 un certo punto diventa 0 chiaro? ok quindi vuol dire che questa differenza in verticale rimane la stessa ma se la differenza in verticale rimane la stessa vuol dire che il coefficientio angolare è lo stesso oppure vuol dire che quando io mi sposto verso destra il triangolo è uguale quindi ha un no con il buon esempio lo stesso n chiaro? quindi due rette parallele hanno lo stesso coefficientio angolare quindi la retta qua avrà 3x più 8 perché io devo fare y uguale 3x più m' ci devo sostituire meno 1 e 5 quindi 5 uguale meno 3 più m' n' più n' n' uguale questa è la mx più n e qua abbiamo y uguale m' x anzi mx più n' ok? già sappiamo che m' qual è 3 l'abbiamo lasciato uguale m' l'abbiamo ricavato come l'abbiamo ricavato? sostituendo le coordinate del punto ok? poi se volete andiamo a verificare se io prendi 3x più 8 3 per 1 fa meno 3 più 8 meno 3 più 8 fa 100 e si e ci passa il coefficiente è lo stesso va bene allora trovare la letta perpendicolare a r passante per meno 1,5 ok? allora qua vediamo un po' come si trova? qua vedo già facce molto più preoccupante cambendo il segno di x cambendo il segno di x no allora qua l'equazione della letta la letta deve passare per questo punto però la letta ha diversi sono diversi sia m' che m' m' non è uguale a m quindi io devo trovare questi due come il fi 5 uno me lo ricavo imponendo la condizione di passaggio per il punto e l'altro due come efficiente a ricavare ci vogliono due condizioni l'altra condizione qual è? cosa so di una letta perpendicolare? perpendicolare a r no è l'antireciproco cos'è l'antireciproco? ah l'antireciproco perché quindi è il reciproco cambiato il segno magari si chiama l'antireciproco è vero ma so stronzare adesso lo ricordavo a lei quanti se lo ricordavano? che è il coefficiente angolare sì 5 su 150 e poi l'avete studiato tutti quanti il coefficiente angolare della retta di una retta perpendicolare a r è meno 1 su m perché? scusate ma ci vuole perché vuol dire che 5 antireciproco superiore non sono serviti a niente e non potete potete anche accusare in parte i professori ma dovete accusare soprattutto voi stessi perché? allora prendete quel famoso triangolo 1 m prendete questo famoso triangolo 1 m questo appartiene a quale retta? y uguale mx che è una parallela a quella retta di prima ma se io faccio la perpendicolare a questa o a qualunque altra parallela alla retta r verrà sempre perpendicolare alla retta r eh? parallele perpendicolare se è perpendicolare a una è perpendicolare a tutte chiaro? ok allora come si fa la perpendicolare a questa? girando di 90 gradi può essere? se giro di 90 gradi è perpendicolare o no? ci siamo fino a qui? ok se giro questo triangolo di 90 gradi e questo è uno questo quanto sarà? se questo è uno che era questo cadetro piccolo questo quanto sarà? sarà m no? si scambiano questo diventa uno e questo diventa m ora che vuol dire che questa retta qua che è perpendicolare a quella di prima che è perpendicolare a quella di prima quando mi sposto di destra verso destra di m scende di uno quindi il suo coefficiente quanto fa? meno uno perché sto scendendo fratto m ora questo ragionamento se non se hai tre neuroni comunicanti non te lo scordi più per tutta la vita perché? prima perché ho strillato perché è importante secondo perché è un ragionamento ma com'è? cioè non hai bisogno di ricordarti quanto fa prendi sto triangolo e lo giri di 90 gradi lo puoi fare anche al momento o no? come era? era uno su m meno uno su m piglia questo lo giri si vede che questo viene uno e questo viene m no? in m verso destra e scendo di uno quindi il coefficiente angolare che prima era m diviso uno adesso sarà meno uno perché sto scendendo diviso m te lo puoi scordare più no te lo puoi dimenticare solo se perdi il bene dell'intelletto cioè a un certo punto non ne so hai fatto un gire in stradale capacità cognitiva no ma se no perché è un ragionamento sei in grado di rifarlo qualunque cosa cioè avere una cosa perpendicolare significa gire di 90 gradi non è che ci vuole da ricordare se tu lo chiami antireciproco o anti quello che vuoi è un'altra definizione da aggiungere alla caterva di definizioni che avrai studiato in tutte le superiori quando le definizioni diventano troppe la memoria piglia spazio ma che è sta antireciproco no non voglio anzi che uno se lo ricordi va bene è una cosa buona non è che però non è stabile io ci devo arrivare con ragionamento quindi il coefficiente angolare della retta di una retta perpendicolare è il meno 1 su m quindi qua la retta è meno 1 terzo x più n primo e poi che devo fare devo imporre che passi per meno 1 e 5 quindi 5 deve fare 1 terzo più n primo quindi n primo deve fare 14 terzi quindi y deve fare a meno 1 terzo anzi meno x più 14 diviso 3 il coefficiente a meno 1 terzo è perpendicolare a questa ci passa per per meno 1 meno 1 per meno 1 fa più 1 più 1 più 14 fa 15 quindi diviso 3 fa 5 se siete avete a cuore dei dubbi vi prendete vi disegnate le due rette e verificate che sono ortogonale ortogonale abbiamo fatto queste poche cose queste poche cose vi devono restare piantate nel questi ragionamenti dovete rifarli quelle 4 5 volte che diventano parte di voi le avete compresi e siete in grado di ripeterli sempre poi ogni volta che affronterete un esercizio nel quale ci saranno le rette ripetete i ragionamenti io molto spesso faccio così non mi sto a ricordare tutte le migliaia di formule manco quelle di ricerca mi ricordo in tutte le loro varianti certo quelle di base me le ricordo ma me le ricordo perché le uso se non le usassi per 10 anni mi dimenticherai anche quelle però diciamo quando la formula è già un po' elaborata me la ricavo perché non ha senso ricordarsi ha senso ricavarsi qua in effetti non c'è la prima volta altro che ricavarci cioè se siamo girati 90 gradi se questo faceva m su 1 questo deve fare meno 1 su n un po' che c'è prova da fare è chiaro lo puoi pure girare di 90 gradi dall'altra parte sempre meno 1 su m perché invece di venirti così ti viene così vai di m scendi se lo giri a destra se lo giri a sinistra sempre se lo giri di 90 gradi funziona lo stesso chiaro ok va bene la figura è fatta ovviamente male questo qua se questo è 1 questo non è 1 questo deve essere però si capisce ok andiamo a vedere come si fa allora prima di tutto andiamo a generalizzare le equazioni delle rette quali rette ci mancano? quelle verticali qual è l'equazione di una retta verticale? ecco qua perché non l'abbiamo fatta prima perché qua la y non compare l'equazione per esempio se qua stiamo a 2 è x uguale a 2 perché la retta verticale la x è costante e la y fa quello che fa allora come si può passare allora questa equazione non posso scrivere y uguale a mx più n perché la y non c'è non posso esplicitare la y allora come si può fare? qual è l'equazione generale di una retta? e qua ci sono delle piccole complicazioni perché l'equazione generale di una retta è questa è ax lebbiano più dy più c quadre tuttavia qua non c'è più una corrispondenza univoca di univoca tra le equazioni e le rette facciamo un esempio questa retta qui 2x più y più 3 uguale a 0 e 4x più 2y più 6 uguale a 0 trovano la stessa retta questa è la retta r questa è la retta r perché? perché quella di sotto non è altro che l'equazione di sopra moltiplicata per 2 2 lo metto in evidenza lo tolgo e quindi quindi stavolta possiamo avere più equazioni che corrispondono alla stessa retta nell'altro caso no perché nell'altro caso il coefficiente della y era sempre 1 y uguale a 3x più 4 y uguale a meno 2x più 3 y uguale a 6x più 9 se cambiava o m o n la retta cambiava qua no qua potrebbe succedere allora come facciamo a passare da questa a quella di prima? se b è diverso da 0 io ho x uguale meno a su b x meno c fratto b e questa m e questa m porto all'altra parte divido per b chiaro? viceversa se y uguale a mx più m questo lo posso fare se b è diverso da 0 cioè non sempre non sempre mentre il contrario lo posso fare sempre perché qua mi viene y meno mx meno m uguale a 0 quindi come vedete quell'equazione lì questa qua è più generale perché comprende anche le lettere verticali perché se qua ci metto 0 al posto di b e ci metto 1 al posto di x e meno 2 al posto di c mi riesce a restare chiaro? ok ma questa come dire è vero i matematici fanno interi corsi in giù metriaco e lettino su queste cose qua eccetera eccetera però è acqua che per quello che serve a noi non toglie tanta sede cioè noi in questo caso ce lo possiamo fare pure a parte però però il problema diventa se mi sapete scrivere qualsiasi una lettera verticale cioè se mi sapete scrivere qualsiasi una lettera verticale sono convinto anche che mi sappiate scrivere quella di una lettera generale perché il problema è che se vi siete abituati soltanto a usare mx più n mx più n mx più n quando vedete l'a e qua dove è y uguale a mx m quant'è? m non c'è nel caso lì la lettera è verticale io m coefficiente arorale se mi sposto verso destra di 1 salgo di to di m o scendo di to qua non ti sposti verso destra la lettera va verticale quindi m non c'è però non esiste non è che fa infinito non esiste non c'è se mi sposto ti sposti verso destra la x si sposta? no e qui? eh? non ci sta è chiaro no? ovviamente o qua però possiamo riandare ad esaminare il discorso prendiamo due rette a' x più b' y più c' uguale a 0 questa è la retta r e la retta s andiamo a vedere qual è la condizione di parallelismo la condizione di parallelismo è che a b' deve essere uguale ad a' b se sono se le rette sono parallele allora questo è importante che voi ci facciate un attimo perché cosa supponiamo che i coefficienti per un attimo siano diversi da 0 parallelismo che significa? significa che qua cambia solo c' che questi altri due coefficienti sono proporzionali a questi e una volta che l'avete fatto la proporzione invece il termine è un buon cambio chiaro se io qua cambio c la retta è parallela a quattro di b cambio c a x più y fa c cambio c sono tutte rette parallele quando c è uguale a 0 la retta passa per l'origine chiaro? però in generale non posso dire che a è b a uguale a primo e b uguale a b perché potrebbero invece essere proporzioni proporzionali ma proporzionali che significa? che a primo sta da a o per b primo sta a b cioè a primo diviso a uguale a b primo diviso a portate di qua portate di là perché se faccio la divisione per fare la divisione ci vuole essere una diversa da 0 per fare la moltiplicazione invece no a primo per b deve essere uguale a b primo per a questo è come lo dovete capire questo però è come lo dovete scrivere perché questa è la condizione questa qua si può fare solo quando hai il pismo per se chiaro? qua è stato più complicato quindi speriamo 3x più y più 4 uguale a 0 6x più 2y più 9 uguale a 0 come sono? sono parallele? certo che sì moltiplica questo per 2 diviene 6x più 2y più 8 uguale a 0 non sono uguali perché qua c'è 8 e qua c'è 9 ma sono parallele perché una volta che moltiplico per 2 questo pezzo diventa uguale a questo invece c e c' sono diverse quindi sono parallele e distingere è chiaro? quando è che sono parallele? quando moltiplicando una delle due puoi ugualiare questi due pezzi per una costante puoi ugualiare questi due pezzi e questo qua se ti viene uguale c uguale a c' io uso la stessa dovremmo infatti r è parallele a se stessa se invece c e c' dopo la moltiplicazione diventano diverse allora sono due parallele e distingere ok quando è che sono ortogonante? allora chi erano i due coefficienti? un coefficiente era meno meno a su b questo è m qual'era l'altro coefficiente? m' era meno a' su b' 1 su m' meno 1 su m' chi è? è b' su a' ma no questo è il coefficiente della prima retta questo è il coefficiente della seconda retta e questo deve essere uguale a m cioè a meno a su b allora moltiplicando che cosa ottenete? ottenete che b b' uguale a meno a b stessa cosa che ho detto quindi allora uno dice questo qua è una delle altre cose da ricordare a memoria e poi me la ricorda vabbè non te la faccio ricordare io che bene 3x più 2y più 5 uguale a 0 scrivimi una retta attorno come si fa? questo è facile basta scambiare i coefficienti cambia segno a 1 cioè meno 2x più 3y più 4 queste due rette questa r questa s r e s sono trovate perché? a primo fa meno 6 b primo fa 6 sono opposti la somma se volete se preferite potete anche scrivere così a primo più b b primo o altro cioè la somma dei coefficienti amogli dei prodotti dei coefficienti amogli deve fare 3x-2 fa meno 6 2x-3 fa 6 fate la somma 6-6 fa 6 quindi basta scambiare i due coefficienti e cambiare sempre ma non c'è allora come si fa a fare l'ortogonale a questa m y più x più n' parte n' questo è l'ortogonale che ho scambiato cambiato segno qual è il coefficiente di questo? m qual è il coefficiente angolare di questo? meno 1 su m lo vedi che fisiotto? se non te lo ricordi se non te lo ricordi vai sulla retta y uguale a mx uguale a mx uguale a m e uno su m dice ah no no deve cambiare segno è chiaro o no? ok ok andiamo a vedere abbiamo 8 minuti grazie adesso ci dobbiamo andare a ricavare la distanza di un punto da una retta allora P ha coordinate y con 0 y con 0 poi R a diciamo corrisponde all'equazione ax più py più c uguale a 0 ok come si fa la distanza di P da R e quanto fa? questo è più difficile poi avete una retta qualunque e poi avete un punto P poi si fa la distanza cosa è? cosa è? è la lunghezza di qualche segmento di quasi è la lunghezza del segmento che si ottiene progettando P sulla retta cioè tracciando la perpendicolata a R qua c'è il piede della perpendicolare chiamiamo Q è la lunghezza di PQ allora come si fa allora se P ha coordinate x con 0 y con 0 e se Q ha coordinate x con 1 y con 1 la lunghezza di PQ come si fa? qua siamo a x 0 y 0 qua cambio figura perché se no qua siamo a x 1 y 1 vi metto più questa lunghezza qua come si fa? è l'ipotenusa di un triaclio quindi se deve fare col trema di P quanto sono lunghi questi lati? questo lato è lungo x 1 meno x 0 questo lato è lungo y 1 meno x 0 quindi questo lato qui quanto è lungo? la radice quadrata x 1 meno x 0 alto al rato qui x 1 qua andate 1 ok? sempre così deve essere deve essere per forza così ora quindi se io non so calcolare la distanza di un punto da una retta posso sempre fare la cosa seguente mi scrivo l'equazione della retta mi scrivo l'equazione della perpendicolare passante per P mi calcolo Q questa retta la diamo a S perpendicolare la vado a intersecare con R la vado a intersecare con R la vado a intersecare con R e vado a calcolare la distanza di P da P posso sempre fare così devo ricordare la formula? no la formula che adesso andiamo a ricavare ha lo scopo di accelerare il tutto però poi non te la ricordo allora più che ricavarla cerchiamo di ricavarla in maniera ragionata cioè facendo capire perché funziona allora cominciamo 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 con disegnare due rette parallele prendiamo A e P positivi allora le due rette faranno così per esempio x più y uguale a 0 e x uguale a meno x se cambiate A e P cambia un po' la pendenza allora questa retta ha ax più bx più c uguale a 0 c non c'è perché non c'è perché non c'è? ci siamo fino a qui ci siamo fino a qui se c non c'è la retta passa per l'origine e viceversa questo è O adesso prendiamo ax più dy uguale a 1 e mettiamo che sia questa retta qua innanzitutto cosa so? che è parallela questa è parallela precedente perché? è perché A per B era A per B uguale no? cioè ho cambiato questa qua è meno 1 uguale a 0 è cambiato solo C le due rette sono parallele ora se io prendo un qualunque punto che sta qua come si fa la distanza allora questi punti qui la chiamiamo P1 P2 P3 P4 P5 questa retta in origine quella che passava per la retta iniziale quella che passava per l'origine la chiamiamo E come si fa la distanza di P1 da R devo tracciare la perpendicolare e fare la lunghezza della perpendicolare ci siamo? la distanza di P2 da R come devo fare? devo tracciare la perpendicolare e calcolare nella lunghezza P3 P4 P4 mettiamola in modo tale che la perpendicolare alla fine dell'origine ok? P5 e così ora queste distanze secondo voi come sono? tra di loro ci siamo che sono tutte uguali se quelle sono parallele le ortogonali sono tutte come le traversine del freno sono tutte uguali sono due binari paralleli se io faccio tutti i segmenti perpendicolari sono quindi tutti uguali in particolare mi interessa sapere questo chi è questo punto P4 chi è? questo punto P4 è facile da calcolare perchè io devo calcolare sta sulla retta perpendicolare a questa passando ai metodorigine allora io devo fare meno bx più ay uguale a 0 le coordinate di P4 devono soddisfare questa equazione perchè stanno sulla perpendicolare a questa perpendicolare basta scambiare i coefficienti e cambiare segnalo quindi se questo era ax più dy dove sarà? meno bx più ay basta per l'origine quindi uguale a 0 poi devono soddisfare quest'altra equazione perchè stavano anche su questa retta qua quindi devono soddisfare ax più by uguale a 1 P4 chiamiamo coordinate x4 y4 quindi qua ci metto x4 y4 x4 4 semplicemente perché è il punto 4 se ci stava 2 cioè voglio far capire che sono le coordinate di P4 che devono soddisfare queste due relazioni ok? ok? ma allora come posso ricavare x4 e y4 allora io faccio così se le vado a ricavare è è molto semplice x4 viene a fratto a4 più b4 e y4 viene b fratto a4 più b4 y4 x4 non lo faccio questo perché potete risolvere il sistema risolvete da sopra e sostituite da sopra ricavate prima l'uno e poi l'altro a4 più b4 non può fare 0 perché se faceva 0 la retta non ci stava era costante da 0 ok? se vado a sostituire sopra viene meno ab fratto il denominatore più ab fratto il denominatore vedete che si annulla no? meno ax4 meno bx4 più ax4 uguale a meno ab più ab fratto a4 più b4 fa 0 sono verificati invece sotto viene a per a che fa a4 fratto a4 più b4 il secondo fa b per b che fa b4 fratto a4 più b4 meno 1 che fa 0 questo viene 1 meno questa volta la risoluzione è più difficile quindi questo è il problema allora qual è la distanza tra le due rette? qual è la distanza di t4 da r? che devo fare? devo fare la distanza di questo punto dall'origine e come si fa? quadrato di questo più quadrato di questo e poi si fa la radice quadrata quindi viene 1 fratto a4 più b4 per la radice di a4 più b4 quindi viene 1 fratto la radice di a4 ok? allora vi ricordo che P apparteneva alla retta S di equazione ax più dy uguale 1 e R era la retta di equazione ax più dy uguale 0 ora se io prendo un punto generico P di coordinate x0, y0 secondo voi qual è la distanza di P da R? io dico che è uguale ad ax con 0 più dy con 0 valore assoluto fratto alla radice di A quasi più dy perché? qua perché mi viene 1? perché qua c'è 1 se qua faceva c in proporzione qua mi veniva c perché vi ricordate l'equazione di sotto? perché là c'era 1, veniva 1 se ci stava c veniva c ma c gli sarebbe stato? sarebbe stato ax con 0 più dy con 0 in quel caso il punto sarebbe appartenevo alla retta di equazione ax più dy uguale 0 quindi questo è il numeratore e questo è il denominatore cioè poi ci va il valore assoluto perché ci va il valore assoluto? perché ci va il valore assoluto? perché la distanza è sempre positiva se lo faccio di sopra qua mi viene il numeratore positivo se lo faccio di sotto il numeratore mi verrebbe negativo e ci devo mettere in modo allora il concetto è il concetto è io ho una retta qua stiamo parlando sempre e solo delle rette passanti per l'origine questa retta è ax più dy uguale 0 poi prendo un punto P di coordinate x con 0 e x non 0 questo a che retta appartiene? appartiene alla retta parallela a questa appartiene a S di equazione ax con 0 più scusate ax più dy uguale ax con 0 più dy questo stiamo dicendo appartiene alla retta parallela a questa vedete ax più dy uguale c ma se ci deve passare lui se ci metto x con 0 e y con 0 deve essere c quindi ax con 0 più dy ora e questa sarebbe questa retta S che indichiamo qua ora qual è questa distanza? se qua mi veniva 1 la distanza faceva 1 fratto la radice di a4 più b4 se qua mi viene questo c quanto sarà? sarà c fratto la stessa cosa di prima ma l'unica cosa ci devo mettere in modo perché? perché se qua la faccio di sotto la distanza deve essere sempre positiva mentre di qua il valore che mi verrà al posto di ax con 0 più y invece sarà negativo o positivo o negativo quello mi sta dicendo che sto andando di sopra o sto andando di sotto però la distanza sarà se invece di 1 ci mettevo meno 1 se nella figura là ci mettevo meno 1 mi viene in una parallela però dall'altra parte ma la distanza è la stessa quindi questo mi dice che ci vuole di 2 allora che cosa abbiamo ricavato qua? qua abbiamo ricavato la distanza di un punto da una retta passando per le politiche qual è la formula della distanza di un punto da una retta allora se dico solo questo e poi ci fermiamo il resto lo fare con gli esercizi fatemi cancellare qui l'ultimo passaggio ve lo controllate da soli perché se la retta R ha equazione ax sub y di c uguale a 0 e in punto P a coordinate x con 0 y con 0 la distanza di P da R è uguale a valore di a x con 0 più y con 0 più c fratto la radice di a quadro di p il caso questo è facile da controllare è ovvio perché semplicemente il più c fa sì per esempio se prendo un punto che sta sulla retta di partenza a x con 0 più y con 0 più c fa 0 la distanza fa 0 torna questo compensa per il fatto che la retta non passa per l'origine ma è parallela ok allora capisco che questa formula sia più complicata però noi in effetti data la limitatezza del tempo l'abbiamo ricavata sì posso ricavarla meglio spendo un altro 5 minuti non è importante quello che è importante è che il ragionamento lo ripediate più volte voi perché cosa dovete capire dovete capire che quando vado a mettere allora il concetto è il concetto è che io quando vado a mettere le coordinate allora la retta di partenza da cui voglio fare la distanza è questa se ci vado a mettere le coordinate del punto se mi viene 0 ovviamente il punto appartiene alla retta la distanza è 0 se invece non mi viene 0 questa quantità che mi viene è proporzionale alla distanza proporzionale alla distanza non è la distanza perché perché io qua posso cambiare i coefficienti a e b moltiplicati per 2 la retta rimane la stessa questa quantità raddoppia posso moltiplicare a b e c per 2 questa quantità raddoppia e qualcosa deve compensare perché la distanza rimane la stessa cioè se io ho qui facciamo un esempio se io ho b che fa 3 4 e la r è l'equazione 2x più y uguale 0 la io questa qua la posso scrivere anche come 4x più 2y uguale a 0 sempre r allora se io metto queste coordinate qua dentro mi viene 2 per 3 6 più 4 che fa 10 se le metto qua dentro mi viene 4 per 2 8 più 12 che fa 20 allora la distanza tra r non può fare 10 o 20 ci deve essere qualcosa che compensa ma la fa tornare sempre la stessa qual è questa cosa? radice di 4x più 4 infatti se io raddoppio a e b provate a raddoppiare mettete qua devo dividere per radice di 5 qua devo dividere per radice di 20 ma radice di 20 è il doppio di radice di 5 chiaro? poi perché è esattamente quella la quantità che compensa? beh perché ci siamo fatti l'esercizio sulle rette passanti per uno lì già abbiamo visto che è quella la quantità perché perché vabbè il tema di Pitagora applicato a un certo punto ok? comunque ripeto questa formula allora traiamo una conclusione bisogna bisogna trarre la conclusione la morale come nella barzelletta del cavaliere nero copyright e bisogna trarre la morale giusta allora volendo questa formula ce la possiamo ricordare ce la possiamo ricavare ce la possiamo ricordare controllando qualcosa che qualche dubbio che abbiamo facendo un esempio non fate solo adesso io qua non ho avuto modo di fare esempi tanti esempi concreti fatevi due o tre esempi concreti prendete x più 2y uguale a zero poi prendete un punto e calcolate la distanza nel ricavarla è stato importante ricavarla perché? per capire determinati concetti cioè per capire che quando io vado a sostituire le coordinate del punto se mi fanno zero vuol dire che il punto appartiene alla legge se non mi fanno zero quello che mi viene è proporzionale alla distanza se preso in modo perché preso in modo? perché se lo metto le coordinate può venire positivo se sta di sopra negativo se sta di sotto però la distanza è positiva sia che stia di sopra sia che stia di sotto poi che c'è quel fattore di proporzionalità e vabbè abbiamo capito questo però dice io adesso quando devo fare la distanza di una letta da un punto me la devo ricordare la formula o no? la mia risposta è se te la ricordi bene se te la ricordi te ne ho qualche dubbio che in due minuti te la ricavi va ancora bene te la scrivi poi ti risolvi il dubbio te la ricavi e ti scrivi la punta se non te la ricordi proprio prendi il punto ti fai l'ortogonale la perpendicolare alla letta di partenza ti fai a calcolare l'interstizione e ti fai la distanza è più lungo ci metti sette minuti invece di due chi se ne importa è affidato cioè è una formula si ti può far risparmiare qualche 5 minuti ogni tanto si se ti capita la domanda giusta se però ti è una cosa completamente ostica da ricordare è niente al momento tre di punti fai la perpendicolare ti fai l'interstizione e ti fai la distanza di due basta non è che ah no non mi ricordo la formula stop esiste questa possibilità non esiste poi è chiaro che se ricavando la formula magari hai capito alcune cose meglio di geometria beh se no cercate di procedere in maniera da stabilizzare ogni volta quello che sapete cioè io ho qua dovuto fare questa formula leggermente più complicata ma però voi procedere oggi che ho capito quello che ho capito vi faccio tanti esempi vi faccio tanti esercizi lo stabilizzo oggi lo devi fare non dopo domani quando ti sei dimenticato il concetto devi fissare il concetto perché saranno poi quei concetti chiave che ti aiuteranno a non dimettere il triangolo che gira di 90 gradi quello se lo fissi oggi non te lo scordi più per tutta la vita altro che l'antirecidolo grazie 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 grazie